Arriva una buona notizia per Civitavecchia per quanto riguarda il famoso accordo Italcementi-Fiumaretta, firmato l'11 gennaio scorso alla presenza anche del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La notizia è infatti che Italcementi, attraverso Real Estate, ha trasferito al Comune l'area dell'ex stabilimento nell'ambito dell'accordo procedimentale firmato appunto quasi un anno fa. Con l'acquisizione dell'ex Italcementi, spiegano dal Comune, verrà finalmente risolto l'annoso problema della città divisa da un buco di 17 ettari. Dopo decenni finalmente avremo una nuova centralità urbana nell'area totalmente riqualificata che migliorerà lo stesso skyline di Civitavecchia. Un enorme spazio fatiscente che grazie alle firme di ieri si preannuncia come luogo di rinascita e modernizzazione. Quello che sembrava solo un capitolo del libro dei sogni è diventato realtà, ha dichiarato il sindaco tedesco. Dopo la firma di ieri siamo entrati in possesso delle chiavi dello stabilimento. L'area ex Italcementi è finalmente del Comune e sia chiaro nessuna speculazione edilizia in vista. Su quei 17 ettari ormai al centro della città realizzeremo edifici pubblici, un grande parco urbano attrezzato, il nuovo Comune con tutti i servizi, oltre alla parte finale dell'asse viario che dallo svincolo autostradale di Civitavecchia Nord si connetterà direttamente al porto. L'operazione trasferimento, continua il sindaco tedesco, per quanto complessa è stata portata a termine in pochi mesi dalla storica firma sull'accordo procedimentale alla presenza del ministro Salvini. Ottimo lavoro dei nostri uffici, dell'assessore Francesco Serpa e dei nostri dirigenti che hanno lavorato per sei mesi con l'advisor e con Italcementi e la sua real estate per arrivare alla stesura dell'atto.